Dopo tanto tempo di assenza, assenza per gli standard del mio canale, sia chiaro, eccomi qui di ritorno con un video dedicato al meteo, al tempo della Germania, ebbene sì, da Berlino, tre giorni che sta facendo un tempo di merda, cielo grigio, pioggia, temperature autunnali, insomma abbiamo una situazione perfetta per vendere una Germania falsa al pubblico come farebbe per esempio il nostro amico, tra virgolette, Fabiano. Non vi ricordate di questo personaggio Fabiano che magari fa video specificatamente in giorni in cui si presentano fenomeni meteorologici del genere e vi vendono la Germania come se fosse sempre così, con il cielo grigio e voi magari abboccate e pensate, sì, la Germania è brutta, il cielo è sempre grigio, che c'entra? Sicuramente la quantità di cielo grigio magari può essere più che nel vostro paesotto in Sicilia, però alla fine voi dovete pensare che tanto ragazzi in questa società bisogna lavorare. Allora, è meglio lavorare con 40 gradi sotto lo schioppo del sole oppure lavorare con il cielo sempre grigio della Germania, con temperature quasi autunnali. Voi che dite? Secondo me è meglio magari lavorare con queste temperature dove sei più attivo, magari all'occhio ti è, non è proprio lo spettacolo più bello ma tanto tocca lavorare. Dunque se il signor Fabiano e company vi dicono che il cielo è sempre così in Germania, ma che andassero a quel paese, non li dovete ascoltare, non li ascoltate, mi raccomando, Sì, è vero che il cielo qualche volta è grigio in Germania, qualche volta, ragazzi, siamo neanche ad agosto e vi giuro, sembrano temperature autunnali e capita, capita, non siete nel vostro paesotto in Sicilia, ripeto, capitano questi eventi meteorologici, però ripeto, tanto bisogna lavorare e chi se ne frega quando tocca lavorare, anzi è meglio avere temperature più fresche, di modo che il tuo corpo è più attivo. Buon ragazzi, per questo video è tutto, un caro saluto dal Buzzo, ciao ragazzi!